Signori, bentornati in un nuovo video Flash. Nuovo set in vista sul fronte Flash and Blood. Il TCG della Legend Story Studios si appresta a far continuare la saga di Volkor iniziata con Uprising, portandoci direttamente al cospetto dell'unico sovrano di questa terra martoriata dal fuoco e dalla guerra, ovvero Emperor, Dracai o Vazir. Dynasty sarà un set che vi porterà all'interno del palazzo imperiale di Volkor giocando nei panni dell'imperatore e difendendo la vostra dinastia dalla rivolta ribelle che sta dilagando nel paese. Questa espansione sarà progettata per ampliare il gioco con un nuovo supporto di tutte le classi esistenti, introducendo in più una classe nuova di zecca. Altra grande novità saranno le Relics of War, una collezione di armi ed equipaggiamenti Marvel da mostrare con orgoglio nella vostra collezione o da impiegare durante uno scontro. Le maestose sale del palazzo imperiale trasuderanno opulenza e potere. Entrando nella sala dei trofei, verrete ammaliati dalle reliquie della guerra, dai simboli della conquista e dai segni gloriosi lasciati dalle dinastie passate e presenti. La campagna di anteprima, che riguarderà la pubblicazione delle prime carte contenute in questo set, che prevedrà 247 elementi, inizierà il primo novembre, mentre dieci giorni dopo, l'undici dello stesso mese, la dinastia avrà inizio portando questo set sugli scaffali dei negozi. E voi, vestirete i panni dell'imperatore in questo nuovo capitolo di Fab? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti e seguitemi se vorrete scoprire altre notizie provenienti dal crogiolo. Grazie a tutti.